Siamo a Russi che in onore di Luigi Carlo Farini fu insignita nel 1878 del titolo di città, una storia millenaria come attesta l'area archeologica della sua importante villa romana. Il centro storico è prevalentemente settecentesco dovuto alla ricostruzione di gran parte degli edifici in seguito al terribile terremoto che colpì la Romagna nel 1688. Sulla centrale piazza Farini si affaccia la chiesa di Santa Polinare riedificata nella seconda metà del XVIII secolo e a fianco del municipio si scorgono i resti più vistosi dell'assetto medievale di Russi dovuto a Guido da Polenta. Il Mastio e due torrioni della Rocca Trecentesca, ora sede del museo archeologico qui dietro alle mie spalle. Ci sono poi altre piazze, chiese, c'è una porta di accesso alla città e poi ci sono anche alcuni piccoli musei interessanti per i curiosi, in particolare da segnalare in via d'Azeglio la bella raccolta di campane e di ceramica rustica romagnola. Ed in effetti è il cuore pulsante della Romagna che ci ha portato fino qua, attratti dai profumi dei mangiari tradizionali, anche attraverso iniziative di valorizzazione della cultura gastronomica locale, portata avanti ad esempio dall'Accademia della Cucina, attraverso il progetto che si chiama proprio Mangiare in dialetto. E quando si dice dialetto qui in terra di Russi si dice belle cotte che è un prodotto che pur avendone l'aspetto non è un cotechino. È un insaccato che si produce con carne muscolosa di maiale e cotica e si gusta specialmente durante la festa della Madonna dei Sette Dolori che cade la terza domenica di settembre. Ma noi invece siamo andati un po' più in là e quindi già nel cuore inoltrato dell'autunno, in prossimità dell'inverno, ci accingiamo ad assaggiarlo, messo in tavola da una equip di cuochi che seguono proprio i mangiari tradizionali di questa bella terra. Eccolo qua il nostro belle cotte come avevamo anticipato, non so nemmeno se lo pronuncio bene perché mangiare in dialetto esigono anche un dialetto corretto. Abbiamo raggiunto le cucine. Le cucine che ci ospitano sono quelle del ristorante dell'insolito di Russi, Daniele Baruzzi, il patron di questo locale. E naturalmente però c'è anche un incontro, abbiamo anticipato, un po' particolare che coinvolge altri cuochi e chef. Perché ad esempio ad accompagnarci in questo momento è Maria Gabriella Visentin che rappresenta la gastronomia, la delizia di Russi. E anche qui un grosso legame con la tradizione gastronomica ci sta per preparare una ricetta ma intanto io volevo invece con il nostro chef Baruzzi capire qualcosa di più di questo belle cotte. Intanto il fatto che non si mangia solo a settembre per la tradizione ma bisogna portarlo avanti tutto l'anno, questa è una cosa bella. Perché è un insaccato che può essere mangiato fino all'inizio della primavera e poi le sue carni sapide che lo contengono sono molto valide. Ecco, non solo a Natale, poi di tipologia viene abbinato al purè di patate invece noi questa sera con alcune ricette abbiamo cercato di dare una vita nuova e diversa al belle cotte per renderlo anche più fruibile alle persone che amano questo tipo di insaccato. Ecco io ho detto insaccato con carni nobili di maiale però lei mi diceva che ci può andare anche il vitello perché un tempo c'era questa tradizione. Un tempo c'era un macello a russi in cui venivano macellati dei bovini e una parte di questi bovini veniva spedita via e il rimanente veniva usato da mettere all'interno del belle cotte anche se molti puristi ritengono che non sia necessario perché comunque è già molto gustoso di per sé ma direi che non guasta. Ecco, tra l'altro il belle cotte si sta avviando attraverso insomma una nuova carta d'identità che è proprio questo belle cotte di russi ci sono gli ingredienti specificati, il metodo di cottura e poi naturalmente c'è il prodotto. Sono pochi i produttori che lo fanno però proprio per questo vanno ben considerati. Le volevo richiedere anche un'altra cosa, ho trovato sempre insomma nelle varie tradizioni che accompagnano il belle cotte che qua in genere si mangia su una buona fetta di pane insipido accompagnato da un bicchiere di canneina nuova che è proprio il vino, il primo vino, il rosso per un tono maestro qui di russi che viene fatto la prima, la seconda settimana di settembre, pochi giorni prima che ci sia questa fiera di cè du lour in cui viene abbinato, poi viene vinificato e bevuto assieme al belle cotte. Ne abbiamo raccontato la storia e la tradizione ma adesso vediamo come si può utilizzare il nostro belle cotte in preparazioni che non sono quelle usuali e lo facciamo per cominciare con Maria Gabriella Visentin, la delizia di russi, sempre in questo bel evento all'interno di un cartellone che poi si prolungherà per tutta la stagione e che si svolge qui a russi al ristorante L'Insolito. Allora intanto lei ha sgranato diciamo il nostro belle cotte ma quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono la patata, un po' di ricotta, il parmigiano, il sale e il pepe. Ecco e tra l'altro lei fa un primo piatto quindi questo è un ripieno di quelli che saranno i tortelli. Allora bene si comincia naturalmente con la nostra patata che è stata lessata e quindi questa è un'operazione fin qui ci siamo. A questo punto tocca il belle cotte, ci mettiamo un po' di belle cotte. Ecco poi gli altri ingredienti? La ricotta di mucca. Allora il parmigiano. Ecco questo praticamente è il nostro ripieno, adesso va mescolato tutto, lei faccia pure perché aggiungiamo anche un po' di sale e un po' di pepe, mi sembra giusto. E poi naturalmente lei però si occupa anche di fare una bella sfoglia tirata a mano come si conviene. Dopodiché questo impasto possiamo mescolarlo per bene, certo lo possiamo lavorare. E mentre lasciamo completare i nostri tortelli con il belle cotte un'altra preparazione ed è proprio il nostro Daniele Baruzzi che ce la racconta con padella e verdure. Sono delle verdure autunnali, abbiamo del finocchio, abbiamo del cavolo romano, del broccolo e del cavolo fiore bianco, viene saltato velocemente in padella con sale e pepe. Poi viene aggiunto il belle cotte precedentemente cotto e tagliato a cubetti. In questo caso appunto ha daduni belli grossi che rimangano praticamente la stessa dimensione e spessore dei pezzi di verdura. Poi a parte abbiamo fatto una bagnacauda con l'aglio, l'olio di oliva e le acciughe. Ed è praticamente quello che sta mescolando nella ciotola. Alessandro. A questo punto siamo pronti per impiattare il nostro antipasto. E quindi un dadino, insomma praticamente tutte le verdure così belle croccanti insieme al belle cotte tagliato a dadoni va dentro al nostro piatto. E poi prendiamo... Irroriamo con la salsa. E questo è semplice, meraviglioso. E questo come lo utilizziamo? Sia come inizio... Sì, come antipasto, anche come un'insalata sfiziosa da mettere durante... Ma anche da mangiare da sola. Perché se uno poi abbonda come quantità diventa anche un secondo già accompagnato da verdure.